Docenti, alunni e rappresentanti delle istituzioni si sono dati appuntamento oggi nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela al fine di celebrare i 70 anni della Repubblica. L'obiettivo della scuola, diretta da Grazio Di Bartolo, è quello di rendere partecipi gli studenti in un momento così importante. E quella che si è svolta oggi ha rappresentato un'altra tappa del progetto. I professori hanno realizzato questo progetto con lo scopo di far capire ai ragazzi che tra istituzioni e cittadini ci deve essere un rapporto di reciproco rispetto. Ma soprattutto ricordare che le regole sono fondamentali per la convivenza civile. E questo va tutto a favore dei futuri cittadini. Sono delle nozioni importanti che i professori hanno trasmesso facendo conoscere come è organizzata la Repubblica e quindi le regioni, i provinci, i comuni e i rapporti tra gli enti e i cittadini. Tra i presenti oggi, come dicevamo, numerosi rappresentanti delle istituzioni. Tutte le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche rappresentano una cornice istituzionale ideale proprio per rilanciare i valori fondanti dell'Unità d'Italia che si sono ripresentati peraltro in occasione della scelta referendaria compiuta dal popolo italiano ormai 70 anni fa con il voto del 2 giugno del 1946 con il quale appunto si è scelto di ricomporre l'unità della Nazione con la scelta della Repubblica Democratica e per la prima volta con il voto delle donne l'elezione dell'Assemblea Costituente e quindi l'approvazione della Carta Costituzionale, della nostra Carta dei Valori. Noi ancora adesso combattiamo una difficile guerra e abbiamo vinto però tante battaglie per consentire a tutti di poter esercitare i loro diritti per affermare la libertà e i principi di democrazia per tutti i giovani e per garantire loro un futuro migliore in una società veramente civile. Ritorno sempre io alla mia attività principale che è l'anti-racket che come voi ben ricorderete che la mafia non voleva mai un ragazzo istruito perché per loro era un possibile mela marcia.